Bene amici, recensione un po' diversa dal solito perché questo prodotto mi è piaciuto meno del solito Stiamo parlando del, eccolo qua, Fire HD 8 di Amazon Sì, è un tablet e parto dal comunicato stampa Uno schermo stupendo, dotato di uno schermo brillante da 8 pollici, 1280x800 d'alta definizione Con oltre un milione di pixel e non mi ha preso il tocco Questo è lo schermo stupendo con oleofubicità praticamente pari a zero Con un angolo di visuale veramente scandaloso Ma soprattutto con una densità di pixel di 189 ppi Allora, gli smartphone ormai sono arrivati a una densità di 400 ppi L'occhio umano sotto i 350, 320, vedi pixel E infatti qua i pixel si vedono distintamente Vi faccio vedere anche un, non so, apro un film a caso, un episodio su Amazon Video Perché questo è un tablet studiato proprio per i contenuti Amazon E già avete visto la velocità di questo tablet Eh sì, era in play ma non è partito Sta aspettando qualcosa, non lo so cosa, forse andiamo avanti Aspettiamo che arrivi al punto giusto Il display è veramente brutto C'è poco altro da dire, il display è brutto L'audio è abbastanza buono, è mono I materiali veramente plasticosi Mi ricorda quei tablet da cestone Che sono stati poi un po' la morte dei tablet Perché la storia è andata così Boom dei tablet a quando è arrivato l'iPad Tutti volevano un tablet Pochi avevano la possibilità economica di comprarsi un tablet E allora cestoni di media o della grande distribuzione Che si sono riempiti di questi tablet qua Da 100 euro, 150 euro Tablet che poi andavano malissimo Si inchiodavano, si bloccavano E quindi dal cestone al cestino Il passo è stato brevissimo E hanno decretato un po' la morte di tablet Android Aspettate che vado avanti a leggervi Un nuovo processore più veloce Prestazioni più veloce del 30% Rispetto a cosa? Se facciamo più 30% di una cosa lentissima Diventa un po' meno lentissima Si può giocare, navigare sul web Contemporaneamente Addirittura 2 GB di RAM Allora vi faccio vedere queste 2 GB di RAM Che non riescono nemmeno a far stare In cache 4 applicazioni Che vengono ricaricate Questa è la velocità del processore Sì, dovrebbe fare lo zoom Sì, ma non lo fa Vabbè, andiamo su Facebook I tocchi li prende un po' sì, un po' no Perché il touch è un po' così così Attenzione che se mi sposto Magari da qua Vado qua nel multitasking Non ho preso neanche il pulsante home Vado a Instagram Avete visto? Tra l'altro ho 4 applicazioni aperte Provo a fare una storia E già inizia a laggare in maniera importante Mentre fa la storia Magari posso andare indietro Posso tornare sul browser Vediamo se si è ripreso il Corriere della Sera E vediamo se adesso zooma Facendo piano 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 Ha zoomato adesso Attenzione che sono entrato nell'articolo Il browser Silk ci mette del suo Anche lui non benissimo E poi qua non abbiamo i servizi di Google Pur avendo Android come base del sistema operativo Ovviamente è personalizzato da Amazon E nello store di suo Non si trovano tutte le applicazioni Che si trovano negli altri store Ovviamente non si trova Meets Che è una di quelle applicazioni Che sui tablet serve di più Ma soprattutto le applicazioni che si trovano Sono sempre un passo indietro Un upgrade o anche due o anche tre upgrade Precedenti Questa è la home page del tablet C'è una sorta di home Con un po' di personalizzazioni Poi c'è la parte dei libri Perché ovviamente si possono scaricare I libri Ma niente a che vedere Con un Kindle Perché sotto luce del sole La luminosità è bassina Quindi non si vede Poi anche l'oleofobicità Quindi tutte le editate che rimangono Fa sì che sotto il sole Praticamente si veda veramente poco I video qua sì Comunque per andare a godere Di tutto l'abbonamento Magari Prime Video Può avere un senso Anche qua comunque sempre al chiuso E quanto costa? Ve lo dico subito È stato pubblicizzato 99€ Tant'è andiamo a finire di leggere Il comunicato stampa Ancora più spazio di archivazione Ok 32GB oppure 64GB C'è l'espansione Attenzione con la microSD Durata la batteria maggiore Fino a 12 ore di durata È vero 12 ore un po' di arrabbiature Perché poi quando andate a stressarlo A installare i giochi Inizia a inchiodarsi A laggare ancora di più Di quello che sta facendo adesso E poi Vabbè le altre cose Le potete leggere qua Ma costa 99€ La versione da 32GB Attenzione con la gabola Perché 99€ Se abilitate la pubblicità Quando il tablet è in stand-by Se la disabilitate Versione da 32GB 115€ Il processore è un Mediatek Che lo fa girare Ma la versione da 64GB E attenzione che Se mettete la memoria esterna Ok bene Ma solo per i contenuti Multimediali Perché le applicazioni Vanno nella memoria interna 32GB Si fa veramente presto A saturarli Beh andiamo a 130€ Con la pubblicità O 145€ Senza pubblicità No ve lo dico subito Non ne vale la pena Non mi è piaciuto Troppi ma Partendo dal display Passando dal processore Passando dal fatto Che non ha i servizi Google Troppi compromessi A questo prezzo Allora 90€ Meglio andare Su un cinesissimo Teclast Che va meglio Che i servizi Google E che ha Secondo me Più senso A questo giro Per me è un bel Ma anche no Un saluto da Andrea Galeazzi Punto com